Mai avuto rapporti sessuali con la ragazzina? Con queste parole, Calogero Fricia, di 24 anni, e Vito Campo, di 69 anni, hanno risposto alle domande del GIP Rosario di Gioia del Tribunale di Sciacca. Entrambi sono gli arresti domiciliari e hanno deciso di rispondere alle domande degli inquirenti. Campo e Fricia sono due dei sei soggetti ritenuti responsabili di presunti abusi sessuali ai danni di una tredicenne che, con il benestare della madre, sarebbe stata costretta a prostituirsi tra le campagne di Menfi, Sambuca di Sicilia e Gibellina. Fricia e Campo sono difesi entrambi dall'avvocato Calogero Lanzarone. I primi interrogatori di garanzia si sono svolti ieri mattina. Tutti gli altri indagati, compresa la madre dell'adolescente, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La donna, difesa dall'avvocato Nino Sutera, è stata sottoposta all'interrogatorio al carcere Pagliarelli di Palermo. Nella stessa casa circondariale è recluso Pietro Civello di Gibellina, assistito invece dall'avvocato Antonino Vallone. Entrambi hanno fatto scena muta, mentre gli altri quattro soggetti indagati sono ai domiciliari. La minore, al centro dell'inchiesta, è stata affidata nel frattempo ad una comunità protetta. Le accuse per gli indagati sono gravissime. Induzione alla prostituzione minorile, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, nonché violenza sessuale ed atti sessuali con minorenne, aggravati poiché consumati ai danni di una vittima quattordicenne. Oltre alla madre sono finiti in manette anche i presunti clienti della ragazzina, ossia Pietro Civello, 60 anni di Gibellina, Viorel Frisan, 37 anni di Gibellina, Calogero Frice di Menfi, Vito Sansone, 43 anni di Menfi e Vito Campo, sempre di Menfi. Stando alle accuse, la ragazzina sarebbe stata costretta dalla stessa madre, che, dietro compenso e con l'ausilio di minacce, l'avrebbe fatta prostituire con estranei in case di campagna ed ovili.